Un virus ingombrante, invisibile, si trasmette con uno starnuto, ma è evidente nei suoi effetti più catastrofici. Covid, una vera e propria calamità sanitaria, economica, sociale. Li abbiamo viste di tutti i colori, zone rosse, arancioni, gialle, teatri e musei chiusi, ospedali e operativi 24 ore su 24. Il Zambortolo di Vicenza non fa eccezione. Il Covid è ingombrante anche qui, cerca di fagocitare il reparto di malattie infettive, tenta di riempire le terapie intensive, richiede nuovi letti, obbliga la direzione sanitaria a requisire nuovi spazi. E a rimetterci sono stati altri malati, altre strutture, come l'Hospice. L'Hospice è un luogo dove i malati cronici, sofferenti, non più guaribili, possono trovare un sollievo e un po' di serenità. Per essere tale, però, l'Hospice deve rispondere a dei requisiti ben codificati. A parlare è Marco Visentin, presidente dell'associazione di volontariato Curare a Casa, che si occupa dell'assistenza ai malati terminali e alle loro famiglie. Si è rivolto a Rete Veneta perché a Vicenza, caso unico in Veneto, da marzo, per far posto ai letti supplementari riservati ai pazienti Covid, i locali dell'Hospice sono stati sottratti e spostati in camere non adeguate. Le camere dove sono stati trasferiti sono camere a tre letti, che non permettono la privacy, non permettono di ospitare altre persone, non permettono di fare dei colloqui di tipo psicologico, per esempio. Non ci sono dei locali comuni che permettano attività diversionali, come la musica, come la pittura, necessarie per il programma tipico dell'Hospice. Quindi al San Bortolo ci sono delle camere con scritto Hospice, ma di fatto l'Hospice non c'è più. Noi certamente approviamo gli sforzi dell'USL per fronteggiare la pandemia Covid, però questo riteniamo non debba penalizzare altri malati, tanto più i malati terminali, affetti di grave sofferenze, che vedono l'Hospice come il punto dove possono ottenere un sollievo. Insomma, il problema va risolto. Noi di Rete Veneta sosteniamo le ragioni dei malati terminali e porteremo la voce dei volontari dell'Associazione Curare a Casa alla Direzione Sanitaria dell'Ul Sotto, perché si attivi e prenda l'impegno di trovare in tempi brevi una struttura che risponda agli standard degli hospice. La questione dunque, per quanto ci riguarda, non finisce qui ma continua.